Buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento per questo invito e perché mi permette di fare alcune considerazioni oggi qui con voi. In particolare su un settore che è quello della concia delle pelli, che è un settore del nostro manifatturiero importante non solo a livello nazionale ma sicuramente molto importante anche a livello europeo e mondiale. E queste considerazioni non possono che partire da un'ovvietà, cioè qualsiasi attività umana quando viene svolta ha un impatto sull'ambiente. Però c'è chi come voi e il report di oggi che voi presentate oggi lo dimostra, ha cercato di ridurre questo impatto ambientale. E i risultati che vengono presentati oggi sono risultati estremamente necessari perché tale riduzione di impatto non è solo una riduzione semplice ma è anche una riduzione che porta con sé un nuovo processo industriale e quindi vi rende anche più competitivi nell'ambito del mercato. È vero che la revisione dei processi industriali e anche dei prodotti nasce forse da una crisi economica e quindi si è fatto in parte anche di necessità e virtù. Ma nel momento in cui si è fatto lo si è fatto in maniera cosciente e guardando a quelli che sono le tematiche ambientali e il rispetto di questi temi. E se lo si è fatto, lo si è fatto anche perché, e qui mi riallaccio al ragionamento che ho appena sentito, ci si è messi tutti ad un tavolo soggetti istituzionali e non istituzionali di una filiera e si è iniziato a ragionare assieme. Ovviamente faccio riferimento a quanto al tavolo che si è costituito all'interno del Ministero dell'Ambiente a partire dal 2003 prima con le concedie toscane e poi con quelle venete che ha sì da un lato stanziato fondi circa 70 milioni di euro, ma soprattutto li ha finalizzati a processi di sviluppo. E questo secondo me è stato la chiave di volta, mettersi insieme, ragionare insieme, capire qual è lo sviluppo per quel settore manifatturiero importante che è la concia e agire di conseguenza. Il vostro settore sicuramente è un settore difficile in termini ambientali, sia per la tipologia dei processi sia anche per i materiali e quindi ci sono sfide tecnologiche continue, non è che ci si ferma nel tempo. Però questo pone a questa sfida una qualità maggiore, perché non è solo una scommessa alla sostenibilità, ma è anche una scommessa sulla qualità e sull'attenzione sia al consumatore che al territorio. Ed è ovviamente strettamente collegata con l'innovazione tecnologica. Questo connubio con l'innovazione tecnologica noi lo riteniamo come Ministero dell'Ambiente fortemente significativo. Significativo a tal punto che la conversione green dei distretti produttivi noi la riteniamo una buona pratica da portare alla COP che ci sarà a Parigi a fine 2015 sulla lotta ai cambiamenti climatici come uno degli elementi fondamentali della nostra politica nazionale. Non solo quindi in posizione di regole, ma anche buone pratiche nell'ambito delle attività che noi abbiamo già svolto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e ovviamente rimango a vostra disposizione.